Ciao amici di Radio Dea e benvenuti in questa nuova analisi tattica. Oggi parleremo della salernitana di Davide Nicola che questa sera incontrerà l'Atalanta a Bergamo. La salernitana con l'arrivo di Davide Nicola ha cambiato sicuramente sia dal punto di vista dei risultati ripartendo rimettendosi in corsa per la salvezza che dal punto di vista tattico e mentale. Infatti cambia il sistema di gioco dal 4-4-2 al 3-5-2 con cui dovrebbe giocare questa sera e cambia soprattutto dal punto di vista della motivazione, della sicurezza, della volontà di salvarsi. Dicevo il 3-5-2 Davide Nicola vede alcuni giocatori fondamentali partendo dal portiere Sepe a Fazio in difesa. A centrocampo sicuramente Ederson è il giocatore più importante e Diuric davanti con Bonazzoli è una buona coppia d'attacco che si trova molto bene. Attenzione anche a chi poi subentra perché sia Castanos che Verdi sono due giocatori interessanti che possono fare male gli ultimi 20-25 minuti della partita. Hanno qualità tecniche individuali che permettono anche l'uno contro uno per mettere di andare a trovare quella superiorità che nell'ultima parte della partita con una squadra avversaria stanca può metterla in difficoltà e quindi è una squadra che sicuramente dal punto di vista della morale in un buon momento. Dal punto di vista tattico il 3-5-2 costruito da Davide Nicola prevede una giocata veloce quando c'è la squadra avversaria che va a pressare forte che va a pressare alto e quindi i tre difensori centrali prediligono la giocata lunga verso la punta soprattutto verso Diuric. Bravo a difendere la palla, bravo a far salire la squadra. Quando invece la squadra, quando invece la Salernitana può costruire il gioco, può sviluppare poi il suo gioco, l'uscita su Fazio è poi la giocata successiva verticale o verso l'esterno di centrocampo oppure verso Ederson. Parlavo anche all'inizio del video di Ederson perché è il giocatore fra i tre in centrocampo che durante la fase di rotazione di tre centrocampisti è molto bravo a smarcarsi e a farsi trovare con la postura pronto a ricevere palla per poi andare o a verticalizzare verso le punte oppure a giocare lateralmente verso il quinto di centrocampo. Un altro aspetto da tenere in considerazione della Salernitana sono gli scambi di posizione, cioè giocando col 3-5-2 per esempio lo scambio di posizione fra la mezzala e il quinto di centrocampo o lo scambio di posizione fra la punta e la mezzala. E quando si gioca con la mezzala e il quinto di centrocampo in cambio di posizione vediamo come la mezzala si butta fuori per ricevere palla per poi andare a verticalizzare. Quando invece lo scambio viene fatto tra punta e mezzala quindi tra Diuric soprattutto e Ederson che fanno questo in tre scambi di posizione la palla non viene giocata alla punta ma viene giocata in profondità quindi con una palla filtrante verso la mezzala che va a attaccare allo spazio. In fase di non possesso palla la Salernitana è brava ad aspettare senza però andare a schiacciarsi ed è molto brava poi a ripartire una volta recuperata la palla. Infatti cerca di andare a portare la squadra avversaria centralmente dove c'è una densità soprattutto quando giocano con un sistema di gioco 3-5-2 e questo perché? Perché centralmente ci sono i tre difensori più i due quinti di centrocampo che si abbassano formando una linea 5 i tre centrocampisti e i due attaccanti quindi questa densità fa sì che il pensiero della Salernitana è quello di andare a bloccare centralmente la squadra avversaria e poi una volta recuperata palla immediatamente verticalizzare. Anche questo lo possono fare con 2-3 situazioni offensive. La prima con la profondità sul quinto di centrocampo in zona di recupero palla. La seconda verso la punta in zona di recupero palla oppure cambio gioco sul lato opposto quindi sul quinto opposto o su una mezzana che si apre e va a ricevere questa palla profonda. C'è anche da dire che la Salernitana è in un buonissimo momento dal punto di vista mentale. Sa che si deve salvare, sa che mancano ancora poche partite e sa che i punti a disposizione sono pochi e quindi sicuramente verrà Bergamo affamata, arrabbiata con la voglia di strappare questi tre punti che potrebbero mettere un altro mattoncino per la salvezza della squadra Granata. Allo stesso tempo l'Atalanta è ancora assolutamente padrone del proprio destino per quanto riguarda la qualificazione all'Europa League. Infatti con la vettoria di questa sera potrebbe essere ancora apertissima quella che è la qualificazione Europa League. Io penso che gli uomini Gasperini questa sera dovranno fare una partita soprattutto di testa sapendo che giocheranno contro una squadra affamata, contro una squadra che darà sicuramente il sangue per questa partita. Amici di Radio Dea ci vediamo nella prossima analisi tattica.